Noi come regione abbiamo già attivato almeno 4 o 5 contatti, speriamo di trovare quello giusto. Chiederete il commissariamento? Vediamo, quello non è nostra competenza e conseguentemente preferiamo valutarlo in modo concertato con il Ministero. Sicuramente ne parleremo, c'è sempre stato allineamento tra regione e città metropolitana sulla vicenda della GKN. Intanto però QF accusa i lavoratori di averli voluti far fallire, i toni si sono davvero alzati? Era quello che io temevo, purtroppo per questo più volte ho ripetuto appelli a mantenere un clima di rispetto perché senza lavorare tutti insieme non si esce da una crisi così complicata. Io non perdo la fiducia, non perdo l'ottimismo, non bisogna perderlo, visto che in tante occasioni abbiamo superato crisi industriali difficili. Penso che se lavoriamo tutti insieme con la regione, con il governo, sindacati e proprietà possiamo ancora trovare una via d'uscita per un progetto credibile di conversione industriale di quel sito.